Con Cesare Sassolini, coordinatore per la Valtiberina di Forza Italia e responsabile dei club Forza Silvio per l'Umbria, cerchiamo di capire e di analizzare un po' quello che è successo al voto del 25 di maggio e soprattutto di spiegare se c'è stato o meno scissione tra Forza Italia e Udc e la lista civica a cambiare San Giustino. Scissione assolutamente no, c'era la volontà e la possibilità di presentare il simbolo di Forza Italia assieme ad un simbolo che era già stato presentato dall'Udc per una lista di un candidato, Giovanna Bicchi, professoressa, persona seria, conosciuta, che tra l'altro ha fatto una scelta coraggiosa perché tutti sanno che proveniva dal PD, quindi persona che ha fatto un percorso e ha deciso di aderire al centro e sotto questo aspetto mi sentivo e poi ci sentivamo di meritare una persona coraggiosa. Certamente la candidata sindaco Giovanna Bicchi è andata a parlare con i nostri alleati di centrodestra della lista civica ma purtroppo non ha trovato quell'humus favorevole per collaborare assieme a loro, diciamo che forse è arrivata, forse un po' tardi, è stata estromessa, esclusa. A questo punto ha deciso di fare una gara in proprio e siamo arrivati ad un contatto. Siccome a noi faceva piacere presentare il simbolo abbiamo deciso di darle una mano. A prescindere dal numero dei voti, più o meno che si può discutere, l'importante è anche la percentuale che ha preso. Una lista che è partita tre mesi fa non più ha preso comunque oltre il 4,5, quindi comunque ha preso una discreta percentuale. Se chi avvezzo a farlo facessi raffronti con nelle vecchie liste del passato in cui era presente per esempio solo l'Udc, la differenza di 3-4-1. Quindi di conseguenza vuol dire che l'insieme dei simboli e il candidato a sindaco ha tirato abbastanza. Era impensabile logicamente la vittoria, perché bisogna essere concreti e dire che effettivamente era una battaglia molto difficile, soprattutto anche per lo scarso tempo, ma devo dire che la Giovanna si è battuta bene. C'è chi dice che questo non volere Forza Italia e Udc all'interno della coalizione di Pierluigi Leonardi fosse perché voi avevate imposto il simbolo di Forza Italia e dell'Udc, essendo il candidato capolista di una lista civica. In realtà non è così. Noi, siccome bisogna chiarirlo ai tre spettatori, ed è evidente che è un momento di ricostruzione di un centro-destra frammentato. Con il commissario regionale che abbiamo, Norevole Katia Polidori, abbiamo cercato di ricostruire in molti comuni dell'Umbria, fra cui anche San Giustino, una filiera legata al centro-destra, Forza Italia in particolare. Su San Giustino inizialmente abbiamo tentato in tutti i modi di avere un nostro referente e dei nostri referenti, anche attraverso la Giovanna ed altri, ma anche agente già che era in lista con Pierluigi Leonardi, persona tra l'altro stimabile, dentro quella lista già pronta. C'è stato un rifiuto categorico perché non veniva accettato che comunque si stava ricostruendo in quel momento il partito. Di fronte a una esclusione ufficiale di Forza Italia, come comunque interlocutore all'interno di questa lista, siamo stati per forza costretti a presentarci, facendo vedere che eravamo capaci, nonostante ci sono stati fatti poi tentativi di non farci raccogliere le firme, eccetera, eccetera. Ma non entriamo in polemiche che sono sterili, ma noi le abbiamo vissute queste cose. Ma nonostante tutta la nostra volontà di presentarci è stata premiata. Quindi abbiamo fatto capire che non si può non prendere in considerazione un partito costituito, un movimento a livello nazionale, perché comunque non bisogna mai vergognarsi di appartenere ad una parte politica. C'è da dire indubbiamente che la lista che ha vinto, non nel Comune, ma nell'opposizione, se si può dire, del Comune di San Giustino, cioè la lista civica di Pierluigi Leonardi, è una lista molto connaturata a destra, piuttosto che al centro. E noi lamentiamo che manca la controparte che invece sarebbe stata forse necessaria per far quel salto in più che avrebbe portato anche a disturbare in maniera maggiore la lista di sinistra. Un'ultima domanda, un esponente importante della coalizione, della lista civica, l'avvocato Luciana Veschi ha dichiarato che le elezioni sono concluse, cerchiamo di lavorare tutti insieme per riunire il centro-destra e diciamo un po' tendere la mano ora che le elezioni amministrative si sono concluse. Beh, perché avrà certamente osservato che i dati alla mano hanno perso anche loro una grossa percentuale rispetto all'altra volta ed è evidente che andare divisi ci si fa male tutti, oggi siamo tutti alle carceri ferite, ma è altrettanto evidente che se vogliamo costruire un percorso assieme e sono uno di quelli, non possiamo fare a meno dei partiti, dei simboli, perché non bisogna mai vergognarsi dei simboli, né tantomeno dire, perché ho saputo e ho sentito anche delle interviste che lei ha detto, che questa lista di Forza Italia dell'Udc, connaturati al centro-centro-destra, sono liste che sono nate in appoggio alla sinistra. Quando ritirerà certe illazioni che sono fatte, logicamente, allora saremo molto disposti e molto volentieri cominceremo un percorso, anche perché parliamoci chiaro, avvocato o non avvocato, Luciano Veschi o meno, il percorso è tracciato, cioè è naturale che il centro-destra andare unito, lo dicono anche i livelli nazionali, faccio un esempio, Fratelli d'Italia che dopo la sconfitta sonora che ha preso a livello nazionale ha dichiarato che per ottenere qualcosa anche da parte loro bisogna andare uniti. Siamo perfettamente d'accordo, però io dico al momento che ragioneremo assieme bisogna ridare i giusti pesi e le giuste misure a tutti i partiti della coalizione e bisogna essere rappresentativi di tutti, altrimenti questo è quello che avviene.